è fatto nel senso che comunque tipo tu puoi anche fare alabarde contro le alabarde contro la cavallerie leggera però se di due alabarde contro 300 cavallerie leggera non fai nulla cioè non è più neanche un problema di scelta di unità è proprio di farle e basta è proprio il problema, ormai ci ha rinunciato si ha dato un po' ormai in questa giornata e si è ritirato al bar ricordiamo che questi giocatori si stanno giocando la partecipazione al torneo cioè chi perde qui verrà illuminato al torneo e i castori si stanno giocando la sanità mentale no, quello è già perso da molti tempi tipo della partita 2 quella la prossima partita cantichiamo come le bambine di Shining arrivano i cavallieri leggeri che andranno a ridare diabolo da sotto non ci sarà un'altra partita no, io vado a dormire perché il Papa mi ha chiamato e devo andare a Roma domani a Roma? allora sei perdonato se ti ha chiamato il Papa? secondo me tutti quei cavallieri leggeri morreranno nell'arco un minuto dove sono le cavallieri leggeri? perché non le vedo? ah eccolo è già guardoso vediamo che è il primo di Valceville ora che attaccano una casa ma è inutile uccidere Ville tanto a 40.000 di ogni risorsa non è che gli abbia qualcosa per me anche se sembra ormai che il rosso abbia vinto perché sta guadagnando spazio perché il Bruno è la unità per contrastarlo è stato avvento tutte le unità beh ma se non è GG e se hai 100.000 risorse nella banca si le tue risorse giammate fanno 100.000 non è come l'ultima partita che non c'erano risorse per fare il lumber camping in questo c'è sorta si mura fa un tc fa un tc fa un tc fa come faceva PC Master taglia per arrivare nell'angolino in alto no e fa quattro partizzi vai bene ok attenzione ehm G Master dice il meglio deve ancora venire Long Squadman da parte di Diablo Long Squad giù scelta di poco interessante di poco interessante c'è avrebbe potuto fare arceria avrebbe potuto fare stalle no lui fa caserme e mette in coda 15 long swordsman da ognuno beh uccidono tutto quello che c'è sul campo dì di no uccidono tutto quello che c'è sul campo ma ora avrei potuto fare ehm no ragazzi allora uccidono la cavalleria uccidono le schiere uccidono le alabarde perchè non fanno allora possiamo dire che ci sono team game di 4 contro 4 in cui il legno complessivo dei giocatori non arriva al 100 2000 si hai guardato gli achievement no però vedo che a 32.000 legno della banca 36.000 cibo cioè quelli che ha speso oh mio dio il contrattacco però fare l'upgrade il contrattacco no fare 2 ended swordsman lo stavo facendo gli stava facendo basta la spada lunga una mano con lo scudo non gli serve quella 2 gli stava facendo il mio sogno è la longest worldman rush no ragazzi lo stava facendo l'upgrade ma abbiamo spaccato la caserna ma allora allora non si chiama rush se è un bru se è un'ora e 49 ok non esistono questa partita vabbè questa è l'unore e 49 rush vabbè questa è l'unore e 49 rush si deve trasportare la piccchietto dai longest worldman un castello per pc master c'è un'ora che ho chiesto per i villi non c'è non c'è si si spara agli alberi intanto pc master sopra presunto lo spazio non c'è l'upgrade però credo che abbia venduto le risorse tiablo abbia avuto quell'illuminazione no si si le ha vendute no si Allora ti apri Sto vedendo 20 long swordsmen che inseguono un villo Il villo riesce a scappare Sto vedendo 20 long swordsmen fermi attorno agli alloggiamenti Quello taglia la legna con l'onagro Quello long swordsman sono fermi Sono in pausa a sigaretta, vedi? Pausa a sigaretta, ok E tra le volte non voglio una promozione nemmeno Allora, spade a due mani potrebbero servire a qualcosa Long swordsmen No Dubito che si abbia più villi No, alcuni in un pc 40 villi Adesso dobbiamo solo aspettare Che quelle 40 mila di cibo E 22 mila di legno Finisca Eh sì Tanto il sonno è per i deboli Chi dorme è scemo? Quando vorrei essere scemo adesso? Se guardiamo nell'angra alla sinistra c'è una falegnameria ma sembra che il dc sia più vicino per quell'unico villo che lavora Come prima che quello è il fattore Non è un ricomiglio, cavolo Ci sono ben tre tagli a legne Ora due Ovviamente il PC Master ha deciso di smettere di pushare, no? Perché quando il tuo avversario non ha unità E non ha difese Tu devi stare fermo Perché se no non ti diverti Non sarebbe giunto Ha perso quello loro che aveva sotto Tiablo focussa le case Nel frattempo Ha deciso che vuole lasciare a PC Master tutto il tempo per tornare a fare Arbalest C'è PC Master che sta palesemente spiando la live Perché ha visto dove sta tagliando Tiablo Ha fatto un castello e si è murato Ah certo Classico stream cheat Postumo Postumo No e ditemi come faceva a saperlo Eh non lo so Forse perché Tiablo è stato tre ore ad attaccare le case in quest'angolo Mentre tagliava la legna con l'Onago Forse per quello Non lo so Attenzione One shotati i long swordsman dagli imperial skirmish Se vedete bene PC Master ha molto meno risorse di Tiablo Quindi se Tiablo Riuscisse ad entrare nell'economia Di tutto in tutta l'economia Sì ma non è che parlando Possa allungare la partita Ora è registrato Tassu non vuole neanche sentirle certe cose Ma questo Tassu non lo sa Però Tiablo ha degli scout bloccati Distrugge una scuderia per far uscire gli scout Tiablo è lento anche quando deve tagliare gli alberi Che andranno a suscitarsi contro gli schierini Cioè è l'unica cosa che può fare E non la sta facendo Sì 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 Il bello è che tipo Più o meno i villi di Tiablo Ci avrebbero messo lo stesso tempo A tagliare questi alberi di quello che ci ha messo lui con quell'onagro Cavalleria leggera Altro tentativo sui 5 milioni di skirmisher nella basilica Quando bastava tipo un mangano Quando bastava tipo un mangano Uno Un gigantesco badaboom Ma anche ciò pando Quel lato c'è il castello comunque Sì lo ciò passe È uscito un onagro Cioè lui deve migliorare una cosa Arrivano le cavallerie leggere Davanti ai campioni di Tiablo Vediamo che Tiablo A tre ferme Oh no l'onagro Attenzione big badaboom No perché sono sopra collina Sopra collina se ne strafregano Mi ammazzolo due Però l'onagro muore L'onagro muore miseramente Dopo un discreto triplo badaboom Moderato E niente Vediamo che Il rosso voleva murare dentro I campioni ma fallisce Tiablo non si arrende Faiterà fino alla morte di ogni sua unità E manda un altro ono che non c'è un pane da legno Ma ha più risorse comunque il Pitchmaster Cioè è inutile dire Non gli siano ma adesso l'economia Ammazza tutti i villi e vince lui perché ha più risorse Sì Però deve entrarci E per entrarci deve passare davanti al castello O quantomeno muovere le unità So che è brutto ma deve farlo Si prende una reliquia intanto Pitchmaster Un'utile reliquia dell'ora e 59 Eh sì per il vantaggio Una riete? Una riete? Vediamo una riete Dov'è la riete? Una riete? Scelta complicata Misclick Misclick nessuno lo so Ma la riete serve a tancare i danni Delle schermo per proteggere l'onagro Sì Comunque anche i campioni lì E i campioni credo che se la possono vedere con quelle schermo Noi stiamo commentando ma non c'è più niente da commentare però Tra l'altro gli spettatori sono aumentati ragazzi Cioè io non sto scherzando eravamo a 5 prima ora siamo a 9 Vediamo Pan Carlino Faccio una partita con Kai Mikawa Poi vado a letto Has logged into steam Magari userà lo sleep simulator Mancani di sping sleep simulator Ora entra nella roba e si incazza Ciao a tutti quei che ci stanno aspettando a quest'ora della notte O per noi stessi No c'è dell'altra gente C'è stivac Quello di Ita che si è giunto da poco Ragazzi ma siete stupidi Magari io o domani ma non ho niente da fare Eh andate a dormire Non ci sono scopate da puttano Non mi preoccupate Tra un po' facciamo Attenzione più che vediamo La prossima sarà una black forest veloce C'è stato detto Mini batapul Ha detto è veloce per essere una black forest Ricordiamo che tutte Ricordiamo che tutte le donazioni andranno Per far andare a puttare i caster Dopo questa partita Sì O l'ospedale dipende Tutte le donazioni sarà l'ospedale con l'infermiere Dipende dall'uscente personale del caster Se riusciamo a trovare una puttana a 10 centesimi Andiamo Una puttana per 6 persone a 10 centesimi Guardate la strage dei campioni che non attaccano Hanno fatto una passeggiata davanti alle schierpe i campioni Ma sono tipo 100 schierpe che devono fare Nel frattempo Tiablo micra in sua metà davanti Le fa camminare avanti e indietro Perché così sono più minacciose Ecco E a questo punto PC Master No Ancora meno risorse di Tiablo Nonostante tutto Tiablo Qua si boom Oh una gri Qua si boom Ma a villi Tiablo Si sta andando a fare Dove sono? Un centro città all'angolo in basso della mappa Grande Tiablo Per i boom Puoi farcela Ma non i boom Fai tantissimi campioni e attacca PC Master dritto al cuore della sua base Taglia la legna L'ha tagliata Attenzione Ha tagliato Ha tagliato Può entrare Ma vince sicuro Entrami i campioni Eh ma c'è il castello Eh ma c'è il castello Sempre parla di sto castello Lo spacca il castello Però non ha squire L'avrà fatto coso? Come si chiama? Incendio doloso Non so manco se ce l'hanno Se ce l'hanno Ha ferito e quindi tutti i campioni moriranno Se l'ha fatto incendio doloso Tragedia dei campioni Il prossimo video di coaching sarà Quando bisogna arrendersi Quando non bisogna arrendersi Quando bisogna non arrendersi Suono Senza un suono della campana Attenzione Perché se non tra il giusto Ma il tc non lo so E infatti adesso i campioni dicono Va boh Andiamo a praticare Termos I campioni indecisi Però magari qualche baracca in più Tiablo se vuoi portare a termine Quest'operazione Ti serve Magari altre 200 baracche in più Stai riboommando su un set Nooo Incheidibili come si è Campioni e attai Incheidibili con tutte le risorse che ha Ha fatto solo un tc Ha fatto solo un tc? E non ha messo un alloggiamento Alloggiamento Non ha fatto Militare fino ad adesso Vuoi che adesso faccia l'alloggiamento Va beh Perché no? Sta riboommando Arrivano le farm Ma che gli serve una farm a 20.000 di cibo? E non si sa mai Vorremmo andare tutti a letto Ma nessuno riesce a distogliere lo sguardo Da questa partita Bcpc Master Eeeh Però un corso su quando dare gg Alle pecore esponatrici Forse farebbe bene Ma secondo Non deve dare gg Tiablo Deve vincere Buttare giù Gli alloggiamenti e vincere Ma potrebbe anche vincere Se facessi 200 unità Sì E questo è il bello Butta giù le case E gli alloggiamenti Per fare 200 unità E vincerebbe Anche perché i campioni Continuano a counterare Tutte le unità Che ha in campo Bcp Master Tra campioni e scheme 200 Proprio 200 Dissidorete anche i villi Che tanto almeno servono E ha vinto Ma invece Invece è stato così lento Che Bcmaster è riuscito a tirare un muro Dalla lasca Fino al cibo E ha vinto Cioè perché non lasciare Al tuo avversario Il tempo di costruire Un mega doppio muro Mentre tu attacchi Le sue case Alloggiamenti adesso Bravo Tiablo Intanto Leggiamo un meme Vecchio di tre giorni fa Io Faccio massimo 9 villi Ho perso Le pecore Bcmaster Nel frattempo Non capisce Feritoie Non capisce Bcmaster Come ha fatto A non vincere Un'armata Quando vengo attaccato Non faccio il fabbro Perché perdo sempre Ricordiamo che i meme Vecchi di tre giorni Sono tipo Il latte Marcito Da quindici mesi Non scade Mi mi scade Dopo un'ora Tipo Sei aperti Invece sei conservativo Io sono a scatolo Ricorditi C'è un buco Grazie a Dio C'è un buco Grazie a Dio C'è un buco Grazie a Dio C'è un buco Dipende Sono un pelo più avanti Di voi Eh dai No l'ho già visto Il buco Comunque Ma non va Ma non va Non va Non va Non va su il castello Perché Grazie a Dio C'è un buco Lo vediamo qui Grazie a Dio C'è un buco Grazie a Dio C'è un buco No Vedi che anche Amici che stanno uscendo I nuovi meme Quelli con accesso Anticipato E prevederli Bisogna pagare E niente Tantissimi Tantissimi Imperial skirmish E ora Difficilmente Tiablo Recupererà La partita Gli sono rimasti Solo 8000 Di legno Non so Sinceramente Non so dove ha usato il legno Credo l'abbia venduto E 17000 Di cibo Ma il rosto Sto spostando I trambucchi Della direzione Sbagliata Non può passare Dal di qui Perché c'è il muro Di tiablo Potrebbe Più velocemente A distruggere il cancello O a tagliare Un alberello Con i tre buchi Sì Vabbè L'unica controllazione È che tra almeno 20 minuti Finirà questo Questo scempio Sì Siamo a 2 ore e 11 Ragazzi Zat Italian Guy Ma che è sto cancro Due ore di game Dopo Uno Ho il mal di Dopo Uno Ho il mal di pene Pc ma se scrive Niente Spazio bianco Ragazzi Per fortuna poco Per fortuna poco Non si capisce Che cosa Che cosa stia succedendo Pc ma Secondo me Per un po' Non è capito Che scappano Da quattro campioni Devono scappare I campioni Da questo punto La partita Ogni unità Importante Ogni unità Importante Specie Quelle che non costano Come sono le risorse Di pc master Adesso avrà No più o meno Le stesse risorse Di diablo Altri cavalleggeri Ma è bello Che il Pc master Non ha case Per arrivare a 200 pop E' a 195 E' a 195 No E' un grande svantaggio Non arrivare a 200 pop Diablo Nel frattempo E' a 29 Qualcuno ha Passato Una reliquia Due reliquie Tre reliquie Cavalleria leggera E campioni Chi? Diablo Non sappiamo Chi ha scritto Vabbè Dai gg Non si sa Vediamo Lo ha scritto Come se tipo La potesse ancora vincere Vabbè Ti faccio un favore Basta salvare Vabbè Dai gg Ma non è Eccolo Vabbè Dai gg C'è un cavallo In mezzo a un muro Screen Vabbè Dai gg Ma non è gg In realtà Non si sa Era un bait Per fermare l'attacco La partita di prima L'abbiamo recuperata qui Eh sì L'avete proprio recuperata La partita di prima Porco Allora Tiablo Facci Finalmente Siamo liberi Della maledizione Adomodio Ancora non l'è detto Ancora non l'è finito No io me ne vado No Marino Non puoi andartela Dobbiamo ancora streammare Teute e Bindella No No mai Ancora che dura me 10 minuti No 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 Ciao 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 A domani Cacciamola Tra l'altro Il dettrezzo è uguale Vediamo gli achievement Militari Uguali identico Ha ragione Hanno raccolto La stessa quantità di pietro Preciso La stessa identica quantità di pietro E quella ci sta sulla map E basta Vediamo primo L'imperiale PC Master 34 minuti Cioè un'ora e mezzo fa Giusto per dirlo E molto più oro dalle reliquie Più villager per il tiablo E vediamo che qui c'è l'età imperiale Intorno a mezz'ora E qui a due ore e dodici passate È finito il game Ragazzi mi sa che io vi abbandono Vado a giocare un 2v3 Pathbloodplay within the viper Ecco beh Parto non si può vedere sta roba Eh si Per un carlino Un altro game di Black Forest Pop e Frank e Dr. Perluc Stanno giocando Arab e TG game Stai cercando di dirmi che vuoi smettere di streammare No Però voglio andare a portare un po' di cancro Quella lob Però Noi Io ho finito per questa sera Bellissime queste partite Allora Vuol dire che Sto andando al pronto soccorso Portaci una flebo di 2k rubli E noi direi che Non lo so Adesso ci fermiamo un secondo Vi lascio con la copertina Torniamo subito Torniamo subito Rieccoci Non ho la partita Cosa rieccoci Torniamo Adesso la mando Torniamo tra due minuti Di numero Rieccoci Torniamo tra due minuti Di numero Per streammare la finale Tra Teuto e Bindella Ragazzi Lo facciamo E ci vediamo tra poco